Io adesso chiamerei Renato Sarti del Teatro della Cooperativa a leggerci delle cose di Armando, ricordo anche che il Teatro della Cooperativa tra qualche giorno farà uno spettacolo sulla risiera di San Sabba, che credo valga la pena di andare a vedere come quasi tutte le cose che fa il Teatro della Cooperativa. Renato Sarti. E che credo che la Casa della Memoria sia una grandissima occasione per questa città. Penso che sia una delle opere più meritevoli che questo comune, insieme a tante altre cose che avete fatto, sia ben chiaro, abbia fatto nella sua gestione questi anni. E questo è un posto che deve vivere, deve avere persone come stasera, concerti, incontri, dibattiti, ragazzi, storie, eccetera. Passo alla lettura di brevi brani tratti dal libro. Lui aveva una dolce voce, molto dolce, non è tipica di quelle parti dei genitori. Voi sapete che il papà di Armando era di Santa Croce, un paesino vicino a Trieste, dove diciamo così, la bora sferza, la salsedine c'è tanta, il carattere è un po' duro. E lui stranamente invece aveva una voce stranamente tranquilla, dolce. Saba diceva aspro e vorace il Triestino, invece lui no. La vigilanza del PC. A metà degli anni Sessanta si verificò il primo tentativo di golpe da parte del generale Giovanni De Lorenzo. Comandante dei Carabinieri, ma è con l'antunno caldo con la strategia della tensione e la strage di Piazza Fontana che ci rendemmo conto della gravità della situazione e del pericolo per la tenuta democratica dello Stato e ci mettemmo al massimo livello di allerta. Botteghe oscure, la segreteria era il terminale operativo e politico su cui confluivano le informazioni relative alla sicurezza del partito e all'agibilità democratica delle forze politiche, come si diceva allora. Su un versante operava la vigilanza, un settore del partito che aveva il compito di sorvigliare i dirigenti e garantire la sicurezza delle sedi. Ero io a sovrintendere queste attività e a garantire che vi fosse la massima attenzione a quello che stava avvenendo intorno a noi. In questo contesto il partito aveva a disposizione, come strumenti difensivi, anche alcuni impianti radiofonici, rigi trasmittenti da utilizzare in caso di emergenza e uomini addestrati nell'uso di trasmissioni in codice. La rete di sicurezza era composta per lo più da militanti in assoluta fiducia, in gran parte ex partigiani addestrati nelle comunicazioni radio, nei camuffamenti e capaci di far passare alla frontiera i dirigenti del partito in caso di emergenza. D'altronde lo stesso Cossiga ha ammesso in anni recenti che Gladio aveva progettato e individuato le aree dove deportare i dirigenti dell'opposizione. I compagni di vigilanza in quegli anni di tensioni erano molto in gamba. Si trattava di militanti storici e i più affidabili, persone interamente dedicate al partito e per il quale avrebbero fatto di tutto. Si occupavano di individuare case, appartamenti nelle città e luoghi sicuri. In diverse stincostanze queste case furono utilizzate da dirigenti centrali e locali del partito e del sindacato. Io stessi dovetti ricorrervi alcune volte. Dario mi disse, qualche giorno fa, mi ha detto qualche giorno fa, che qualche notte dormiva fuori in quel periodo. Ogni federazione importante aveva un proprio servizio di vigilanza e lo impegnava soprattutto per garantire il migliore svolgimento delle manifestazioni politiche. A Roma e a Milano il servizio era particolarmente curato. Quando c'era un corteo si disponevano decine e decine di compagni nei punti cruciali per impedire che si verificassero incidenti o che avvenissero infiltrazioni. Alla rete di sicurezza vera e propria si affiancava un'altra attività che negli anni della strategia dell'attenzione era ben più importante della vigilanza. La raccolta di informazioni finalizzata alla necessità di avere un quadro sempre aggiornato della situazione politica. Nel 70, fra il 70 e il 74, la vigilanza attraversò uno dei periodi più intensi della storia del partito. E fu proprio io, l'estensore materiale del documento della direzione, dal titolo eloquente, difendere le sedi del partito. Anche se, a dire il vero, i grandi sistemi usati dal PC e che tante polemiche hanno creato a 30 anni di distanza dai fatti, erano in realtà modesti e spedienti che avevano lo scopo più che altro di tenere destra l'attenzione dei militanti per garantire una reazione efficace in caso di colpo di Stato. Ma lo scudo, lo scudo vero della democrazia, era rappresentato da quelle migliaia e migliaia di tutte blu che all'indomani di Piazza Fontana manifestarono per la democrazia e contro il terrorismo. Ricordo quella giornata milanese, con una piogerellina sottile, tipica dell'autunno a Lombardo, in Piazza Duomo, era schierato un esercito proletario. Uso volutamente queste parole, un esercito proletario, che diceva l'Italia intera, non passeranno. Siamo e saremo un argine in difesa della libertà. E così fu, dappertutto, durante la lunga e terribile stagione del terrorismo, di qualunque matrice esso fosse. Grazie, grazie molto Renato. Adesso se spegniamo le luci in sala, vorrei che vedeste un video fatto molto di corsa, di una cosa bella che è appena finita a Sesto San Giovanni.